Sicuramente noi ad ogni programmazione cerchiamo in qualche modo di usare degli acronomi o usare qualcosa che abbia riferimento al GAL, quindi Galassie, GAL, chiaramente, di comunità proprio perché emerge sempre di più quando facciamo gli incontri di animazione il senso di appartenenza alla comunità e la necessità di avere una comunità viva, è quello per cui noi lavoriamo, una comunità viva che abbia un tessuto economico e un tessuto sociale, lavoriamo contro lo spopolamento e il depoporamento dal punto di vista dei servizi di queste valli e proviamo questa volta a costruire tutto questo intorno a delle comunità, piccole comunità, centri di aggregazione che tengano insieme le persone, le facciano sentire parti di un progetto che va oltre di un progetto più grande e che fornisca loro stessi motivo di rimanere qui. Diciamo che abbiamo dovuto crescere, abbiamo dovuto crescere in tutti i sensi anche velocemente perché appunto il mondo intorno a noi sta andando veloce, anche noi ovviamente siamo passati dentro il Covid con delle ripercussioni sulla programmazione ci rendiamo comunque conto che nel nostro contesto anche se dopo il Covid molto si fa attraverso lettere è molto per noi invece molto importante essere presenti sul territorio ed è il motivo per cui abbiamo iniziato più che in passato a spostarci nei piccoli comuni ne abbiamo 67 quindi non riusciamo a farli tutti nel breve periodo però è questa la nostra volontà, il nostro indirizzo raggiungere i piccoli comuni, dialogare con loro quando ce n'è occasione perché tutti si sentano parte di questo nostro piccolo mondo.